ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'integratore alimentare nitrochic a cosa serve nitrochica un integratore appartenente alla categoria degli integratori di minerali e commercializzato in italia dall'azienda si forme srl informazioni commerciali titolare si forme srl concessionario si forme srl cattiva categoria di appartenenza integratori di minerali forma farmaceutica compressa confezioni nitrochic 100 compresse 1400 mg 140 g indicazioni nitrochica indicato per preparare i muscoli e l'attività cardiovascolare all'allenamento ha e quindi un pre workout tanto per l'attività aerobica che anaerobica può essere utilizzato per migliorare la circolazione periferica in caso di mani e piedi freddi modalità d'uso assumere fino a 4 compresse al giorno preferibilmente 40 minuti prima dell'attività fisica descrizione e caratteristiche nitrochica un integratore ideato specialmente per sportivi e base di aminoacidi arginina e citrullina niecina ed estratti vegetali utili per sostenere le funzioni cardiovascolari la euro arginina coinvolta nella produzione fisiologica di ossido nitrico no sostanza endogena che favorisce la vasodilatazione periferica a efficace in condizioni di debilitazione debolezza immunitaria stress catabolico disfunzione erettile intensa attività sportiva e sindrome da overtraining rappresenta infine un ottimo attivatore del metabolismo proteico la euro ossido nitrico ha un potente vaso dilatatore in grado di migliorare la perfusione e ossigenazione muscolare che si traduce in un più efficiente metabolismo cellulare generale la euro a k g il mediatore più importante insieme alla vitamina b6 del metabolismo degli aminoacidi la citrullina partecipa attivamente al ciclo della euro rea contribuendo ad aumentare il pool di arginina libera e ad incrementare la disponibilità di no a utile per migliorare la microcircolazione periferica in caso di schemi e da fatica bassa temperatura esterna disfunzioni endoteliali svolge anche una euro efficace azione disintossicante la euro impiego di estratto di barbietola rossa particolarmente concentrato in nitrati gingo salicina e actifu la marchio registrato inducono significativa attività della euro enos ossido nitrico sintasi endoteliale e zima che supporta la microcircolazione in caso di intensa attività fisica questi estratti possiedono anche attività antiossidante in grado di modulare la euro aggressività di radicali liberi in corso di attività avvertenze non superare la dose giornaliera consigliata gli integratori non vanno inteso come sostituti di una dieta varia ed equilibrata di un stile di vita sano tenere lontano dalla portata dei bambini di età inferiore ai tre anni non usare per periodi prolungati senza sentire il parere del medico se si stanno assumendo farmaci anti aggreganti o anticoagulanti si consiglia di sentire il parere del medico si consiglia l'uso per bambini adolescenti donne in gravidanza e allattamento conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dai raggi solari e da fonti di calore allergeni senza glutine e lattosio ingredienti agente di carica cellulosa arginina alfa chetogluterato agk citrullino ammalato barbabietola rossa trubeta marchio registrato succo concentrato tit 6 per cento nitrati salice bianco salix alba l corteccia e s tit 30 per cento salicina active la marchio registrato estratto di arancia rossa citrus sinensis l osbic frutti e succo concentrato di melograno punica granatumelle frutti tit 65 per cento esperidina agenti di rivestimento idrossipropilmetil cellulosa talco e polietile in glicole gingko biloba gingko biloba l foglie e s tit 6 per cento ginkgo flavoni agenti anti agglomeranti sali di magnesio degli acidi grassi e biossido di silicio coloranti e 172 ii e 170 niecina acido nicotinico fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato